Ciao a tutti dai sei ragazzi e belli brutti, belle brutte e bentornati in un nuovissimo video sul canale Siamo tornati in un video tutorial per parlare di Winix Media Trans E' un programma che permette di trasferire foto, video, musiche tra iPhone, computer, iPad Ovviamente permette di fare il backup delle vostre foto, del trasferimento delle vostre foto dall'iPhone al computer Vi permette di aggiungere canzoni sull'app musica del vostro iPhone o anche di aggiungere delle suonerie Permette di fare tantissime cose, innanzitutto dovete recarvi il link che metterò in descrizione e scaricare il programma, toccare su free download Tutte le funzionalità sono già possibili nella versione gratuita Ovviamente avrete qualche opzione in più come la possibilità di effettuare un backup direttamente sul computer del vostro dispositivo iPhone Questa è una funzione già presente in iTunes e questo programma si presenta come un'ottima alternativa al programma iTunes su Windows Quindi tocchiamo su free download e il download partirà in basso a sinistra Ok ragazzi, questo è il programma e l'interfaccia che ci si presenta Mi dice sia il nome associato al mio dispositivo, la quantità di gigabyte liberi che ho Su 64 in questo caso sono 3 gigabyte liberi Il sistema operativo che è iOS 13.1.3 ed è uno dei pochi programmi già compatibili con la versione iOS 13 uscita recentemente su dispositivi iPhone Ovviamente mi dice anche la versione del drive Innanzitutto stiamo usando una versione non completa La versione completa permette di fare più funzionalità compreso il backup Innanzitutto andiamo a vedere come si presenta l'interfaccia Ci permette di trasferire foto, di trasferire musiche, di ovviamente gestire i video Di aggiungere password a dei file, a delle foto, a dei video presenti sul nostro computer Ovviamente gestire anche l'ebook, le suonerie E ovviamente trasferire da una pendrive che inseriamo tramite USB al nostro computer E trasferire direttamente da quella pendrive i file sul nostro iPhone Inoltre ragazzi vi voglio introdurre al giveaway che sta presentando questa azienda Un giveaway che vi permette di avere una licenza gratis di qualsiasi software Anche di questo software che si presenta come una valida alternativa a iTunes E di un'offerta speciale Basterà inserire le mail qui Ovviamente riceverete sulla vostra posta le mail di conferma se avrete ottenuto o meno la licenza Quindi ragazzi il link in descrizione anche per quanto riguarda il giveaway Ci vediamo direttamente all'interno del software Ok ragazzi eccoci qua tornati all'interno del programma La prima funzionalità ci permette di trasferire foto dal computer al telefono o viceversa Ovviamente si apriranno tutte le foto che sono presenti sul vostro dispositivo iOS Per esempio andiamo sulla panoramica Eccole qua Ovviamente per andare a selezionare più foto contemporaneamente Potete fare CTRL e tasto sinistro del mouse Come vedete mi permette di selezionare più foto contemporaneamente E andarle ad esportarle tutte insieme Cliccando su export Nuovamente su export Attendendo 3 secondi E successivamente clicchiamo su continue Si aprirà una cartella che ovviamente sarà la cartella di destinazione dove verranno salvati i file Come vedete li ha appena salvati Permette di farlo in maniera più veloce rispetto comunque al solito metodo Ovvero collegare il dispositivo iOS al PC aspettando che quest'ultimo lo riconosca E poi ci sarà l'apertura della cartella dove ci saranno tutti i file Dovete andare a cercare i file che vi interessano e passare al computer Con questo programma avviene tutto in maniera più veloce In maniera diciamo molto molto più fluida E quindi non ci sarà nessun lag, nessun bug Tranquilli che comunque è molto veloce Questa è la prima funzionalità Clicchiamo su back e clicchiamo su music manager Quest'ultimo vi permette di aggiungere canzoni all'app musica del vostro telefono Oppure anche di creare comunque una suoneria con le canzoni che già disponete Dovete andare a cliccare su make ringtone E selezionare la parte che ovviamente vorrete avere come suoneria Vi permette anche di esportare la musica dal vostro telefono al PC E ovviamente di gestire la musica cliccando praticamente su una canzone Possiamo andare o a editarla oppure anche a eliminarla direttamente da questo programma Dopo abbiamo la possibilità di gestire anche i nostri video Per esempio se vogliamo esportare un video che comunque pesa dal nostro telefono al nostro computer E in maniera abbastanza fluida ci basterà cliccare sul video che vogliamo trasferire E cliccare su export Attendiamo quei 3 secondi come è successo già con le immagini Clicchiamo su continua Il video verrà salvato all'interno della cartella Mediatrans Come vedete eccolo qua Questa opzione è molto migliore della solita opzione che già si è ripetuta con le immagini Perché innanzitutto vi trova subito i video che volete trasferire Non dovete attendere comunque il caricamento è molto più veloce e molto più fluido E vi permette di trasferirli con due semplici clic E ovviamente vi permette anche di esportarli con la password con il codice Quindi già comunque protetti Tocchiamo su back c'è la possibilità anche di ovviamente aggiungere una password a dei file Come per esempio un file che può contenere dei codici o anche delle password Per esempio se vogliamo diciamo encryptare ovvero aggiungere una password a questa immagine Ci basterà aggiungere l'immagine e toccare su encrypt now Ovviamente scegliere la password che vorremmo assegnare E quando cercheremo di aprire l'immagine ci chiederà sempre ovviamente il codice Dopo è possibile gestire gli ebook o fare comunque una suoneria O di trasferire per esempio da una pendrive che inseriremo tramite l'USB del computer Dei file direttamente sul nostro iPhone Quindi non dovremo copiarli sul PC e poi trasferirli ad iPhone Ma copiarli direttamente su iPhone dalla pendrive Quindi questo è veramente utile e in questo modo si risparmia del tempo Ok ragazzi questo è ovviamente il programma in sé Io vi consiglio di scaricarlo perché è una valida alternativa iTunes Perché vi permette di gestire video, foto, canzoni e tantissimi altri file multimediali In maniera comunque fluida È comunque gratuito perché tutte queste funzionalità che avete visto sono possibili nella versione gratuita E vi invito quindi anche a sfidare la sorte A cliccare nel link in descrizione E di partecipare al giveaway per avere magari la chance di vincere una licenza Per la versione completa di questo programma Io vi invito a mettere like al video, a commentare, di iscrivervi al canale Per questo video è tutto, ci vediamo nel prossimo video Ciao a tutti ragazzi Ok ragazzi piccola pausa prima di continuare il nostro video Io vi invito a entrare sul sito un milione di fan social site Permette di avere servizi su Instagram, Facebook, Youtube, Spotify Per esempio fan per pagine Facebook, like di pagine Facebook Oppure scorrendo anche su Instagram, follower di Instagram, like e post di Instagram Commenti o visualizzazioni ai video Tantissimi altri servizi anche su Spotify o anche addirittura YouTube Con visualizzazioni, iscrizioni, like e addirittura gli spettatori in diretta Ci vediamo con la continuazione del video Bella! Bella!